Palatricalle di Chieti alla ricerca di un luogo idoneo per effettuare tamponi drive-in nella zona di Chieti. Trovato il luogo è il Palatricalle, un luogo ampio e che consente eventualmente anche delle file, speriamo non troppo lunghe. A sancire questo accordo il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, con anche il direttore della Asla di Lanciano, Vasto Chieti, Thomas Schell. Un accordo che è scaturito da un sopralluogo accurato del sito, ritenuto idoneo, mi pare di capire. Sì, ringraziamo il comune, il sindaco, l'assessore per l'impegno che ci hanno messo a identificare un luogo idoneo. Noi abbiamo purtroppo dovuto valutare negativamente le prime proposte. Ieri sera ho chiamato il sindaco e ho proposto il Palatricalle perché studiando da nonna abruzzese Google Maps dall'alto, come si vuol dire, ho cercato gli spazi ampi e chiaramente mi è venuto in mente il Palatricalle, un location dove tra l'altro con un ingresso separato e un ampio spazio per le macchine sicuramente possiamo effettuare il drive-in per tutto il comprensore di Chieti. Sindaco, tra l'altro qui so che hanno fatto i tampori anche in occasione del Giro d'Italia, quindi in qualche modo è già battezzato. Sì, è già stato utilizzato. Io sono molto soddisfatto di questa soluzione che si sta concretizzando perché è l'esempio di una sinergia virtuosa tra istituzioni. Quindi quando si collabora insieme fattivamente i risultati si trovano sempre. Direttore, la previsione qual è? Perché c'è bisogno di dotarsi così anzitempo, speriamo, di questo luogo? Perché si prevede che possano arrivare tante persone, tante file? Più che altro noi stiamo cercando luoghi dove con tutta calma, tutta tranquillità si possono effettuare dei tamponi perché anche il prelievo è un'operazione che va fatta chiaramente in una situazione di sicurezza e con dei spazi idoni. Tra l'altro noi abbiamo il tema dell'ospedale di Atessa dove dovremmo ristrutturare il pronto soccorso per cui è anche messa in discussione la permanenza di Atessa e chiaramente potremmo anche pensare di fare gissi o torno a Chieti. Benissimo. Infine, tempi di allestimento di questo sito? Io penso siano e saranno brevissimi. Quindi faremo una convenzione con l'ASL, faremo delle pulizie, una sanificazione e penso che in una settimana al massimo il luogo sarà pronto per l'uso. Allora, non mi resta che spiegare con l'operatore Diego Martelli che cosa accadrà. Praticamente si arriverà fin qui con l'automobile, la propria automobile, si viene sottoposti al tampone e poi si esce dall'altro lato, quindi a scorrere con le macchine parcheggiate nel piazzale ovviamente con delle transenne magari per creare delle serpentine che consentano di sistemare più macchine in attesa del tampone. Sì? Giusto? Sì, chiaramente noi vogliamo anche venire incontro alla cittadinanza per non farsi l'ora di coda per cui stiamo mettendo in produzione anche un software Elimina Code che andrà in produzione probabilmente con l'apertura del sito di Chieti in modo tale che abbiamo anche un scadenzamento per fascia oraria degli autenti che devono fare il tampone.